buongiorno giorno 2 del road trip in germania e oggi vi farò vedere quel castello lì alle mie spalle grazie a tutti Stiamo andando a visitare il castello di Nishwastein, forse questa volta l'ho pronunciato bene e dentro non si possono fare né foto né video quindi ci vediamo dopo ve lo faccio vedere solo dall'esterno No, no, no No, no, no Io e mia mamma abbiamo finito di visitare il castello e se volete il mio consiglio potete anche vederlo dall'esterno, merita tantissimo lo stesso, la visita dura solamente 30 minuti ed è un'audio guida Ora stiamo andando al punto panoramico di Marinebrook dove c'è la famosa passerella e il famoso ponte Dopo esserci lasciate alle spalle Fussen e il castello di Nishwastein, prima di arrivare a Saurlash che è la nostra... dove passeremo la seconda notte vicino a Monaco una tappa intermedia a Obermargau dove mangeremo e... dove mangeremo a dopo Siamo appena arrivati a Saurlash che sarà la nostra base per due giorni da qui andremo a Monaco per visitare Monaco di Baviera stiamo per prendere il treno e ci vediamo dopo a Monaco Siamo appena Grazie per la visione Grazie per la visione